Angelo Palmisano indossa la prima fascia tricolore davanti alle nostre telecamere e lui per distacco il nuovo sindaco di Ceglie Messapica. Pesa anche di carta comunque, no? Sì, sì, è una responsabilità importante. Il verdetto, anticipato in qualche modo già durante la prima tornata elettorale, arriva pochi minuti dopo l'inizio dello spoglio, quando è chiaro che l'ex vice sindaco della città, sostenuto da Fratelli d'Italia e da quattro liste civiche, ha superato largamente la guerrita sfidante Giussi Resta, supportata da tre liste civiche, ma per la quale nel corso della settimana era sceso a Ceglie Messapica il presidente della regione, Michele Emiliano. Era una cosa che percepivamo in questa campagna elettorale, c'era veramente grande affetto da parte della città che l'ha riconosciuto sia al primo turno ma soprattutto al secondo turno. 5.354 i voti conquistati al ballottaggio da Palmisano, 67,8% contro il 2.541 dell'arresta, nel cui comitato elettorale si respira una comprensibile aria di delusione, ma senza drammi. Tutto sommato è andata bene, io sinceramente un po' me lo aspettavo, perché insomma io è da due mesi e mezzo, tre, che lavoro su questo progetto. Evidentemente la città non ha capito la bontà del mio progetto, prendo atto del risultato elettorale. Intanto davanti al comitato elettorale di Palmisano si festeggia il successo che bissa quello di due settimane fa dell'ex sindaco Luigi Caroli, divenuto nel frattempo consigliere regionale. E Palmisano, emozionato, ha una dedica del tutto speciale per la fascia tricolore appena indossata. Devo dire la cosa che più ha commosso e che mi continua a commuovere, è stato l'abbraccio con mio fratello pensando a mio padre.